Io sono in casa 2004. Sono tornata da circa un paio di giorni perché il Mobizen, quel stop che sto usando il Mobizen, non funzionava. Oggi vorrei proporre una sfida a Jack, appena entra nel nostro mondo, entra nel nostro mondo, entra e ce la dico, pensavo di costruire sopra le nostre camere una casa per sense, una casa sopra la nostra casa? Una camera dedicata a sense. Questa è una miscreen, molto bella, tra l'altro l'ho scelta io personalmente. Vabbè, non fateci caso. Il dio dei Pokémon, ragazzi, mi ha detto anche di incantare il piccone ed è quello che ho fatto. Ma cosa? Non c'è più la mia skin. Vabbè. Lo stesso. Jack si è andata alla partita. Ah, tra poco arriva. Intanto vi faccio vedere. Eh, sì, ciao. Ok. Allora, ragazzi, quello lassù, non so se si vede, magari con una freccia riesco a farlo. Vabbè. Figo! Eh, vabbè. Era la mia freccia. O comunque sia, Jack dovrebbe raggiungermi, tecnicamente. Intanto vado sull'altare di Archeus. È stato Jack a costruirla. Io ho dato le coordinate come costruirla. Allora. Questa è una fiamma dedicata a Archeus. Ghiratina. Di Alga. E per Pancchia non c'era una fiamma rosa. Gli abbiamo dato l'alito di Drago. Jack? Eh, siamo uguali. Guarda, siamo uguali. Siamo uguali. Oh no. Scusa. Prima di andare a costruirla a casa dei sensi, vogliamo farvi vedere il Monte Corona. Adesso è... Eccovi. Pum. Sì, va te. Allora. La calenata del Monte Corona l'ho costruita in gioco. Come al solito. Eh, ciao. Mi sono incastrata. Ma tu mi stai seguendo, vero? Sì, è un po' vicino, mi è in piattaforma e si arriva per gli Archeus. C'è un piccolo parkour da fare. Poi hanno aggiornato queste torce qui, che non vanno neanche. Non vanno a terra. Sì, infatti. Minchia però, non ci riesco. Ho spoccato una torcia, però vabbè. Allora, quello là sotto è il beacon con il diamante. Ma tu sei lì? Cosa fai? Vabbè. Comunque la faccio a due è questa. Qui c'è il dio dei Pokémon che è immerso nel buio. Direi di andare a casa, perché sennò... Ho fatto un tuffo della miseria. Allora, noi domani andiamo un po' a costruire la casa. È il senso. Andiamo a dormire. Arrivo. Facciamo così. Entro da di qua, che è più facile. Un Creeper. No, mi dispensiamo domani. Che fai qui, Creeper? Pensiamo domani. Usa la spada se vuoi fare prima. Vieni a dormire. Perché è il piccone? Dove è finito? No, sulla nostra terrazza. Vattene. Muoviti. Ok. Sono qua. Mi arrivi prima che mi abiso lì e faccio il bello addormentato. Eh, ciao. Le porte si dimentica sempre di chiuderle. E basta. Fortuna che ho incantato il piccone. Come? Il letto è troppo distante. Dai, che dobbiamo iniziare a fare sta casa. What? Io sento dei rumori tipo V. È un Enderman. E che cosa fa? Non so dov'è. O è in casa nostra? Non lo so, prova a vedere. Buono. Ah! E' in casa. Sì. Ecco. Fa ridere, eh? Tu non metti l'ordine. Ecco. E' che ha fatto bene. Va bene, se no al prossimo che passa cade di nuovo, eh? Scusatemi, dovevo salutare mia madre. Ok. Dove sei tu? Ah, un SIDER è un Enderman. Ok, io ho proprio fuoco. Ma chi? Occhio con gli Enderman. Ti do il piccone. No. Allora, allora facciamo una carta. Sì. Vieni a fare la blu. Sì, esatto. Blu e azzurra. Sì, perché è anche bianco, perché il senso non è solo... C'è un altro Enderman! È l'Enderman di prima. L'ho visto, l'ho visto. Intanto prepara i materiali. Io sì, io sì. Allora, gliela facciamo tutta blu, tutta di arroia, 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 arroia. Come la facciamo? Vada per l'azzurro, dato... Intanto prepara una porta, non si sa mai. Non so come ha fatto cambiare la screen, perché io ce l'avevo prima femminile, non maschile. Non lo so. Questo... Ti chiudi. Ok. Le finestre come le facciamo? Normali o blu? Le finestre, se ci sono di un altro colore, vada. Qualc'è l'alanzurro, blu, normali? Normali ci potrebbero stare, perché... Mettiamo le porte qui, ci passi? Ok. Ti do delle torce, vada. Mettiamo le torce azzurre. Le azzurre non è che illuminano tanto. Eh, come no. No, mi piace, è vero. Metto questa, vada. Ok. No, questa non ci passa. Ma non esagerare, non così. Togli le... Arrivo. Non sai arrivare la casa te. Aspetta un attimo. Dovevo togliere col piccone. Ok. Poi preparo un letto blu. Vediamo. Ci metteremo un po' di più, rega. Letto. Ho scritto lutto. Vabbè. Letto. Io lo mettiamo di questo colore qua. Ok. C'era un Enderman, prima. Non so. Poi mettiamo una crafting table. Ma perché gli Enderman devono venire qua? Non... Non è il loro posto. Eh, sì. Una cesta. Allora. Spero che... Una formace. Allora. L'ho visto! Smetti, la cesta. In realtà ci sono giusto più il mondo per un Enderman. Ora ti faccio vedere io. Bene, ma è una forza, non sono aperta. Già. Eccolo. Ok, ti è dato poco. Ok, io ti direi... Non è qua poco. No, si è spento nell'acqua. Piffero, però. Cos'è questo rumore? Non lo fa nemmeno io. E' di nuovo lì. Ma perché ruba i blocchi? Sta rubando i beacon. No, li sta rubando per i blocchi. Perché? Mh... Comunque vieni a vedere, ho fatto... Ecco qui, la casa di servizio. Via! Aspettami. Aspetta. Ottimo. Spero che... Gli piace. A meno che... Non lo evitiamo qui su Minecraft. Aspetta. Così va bene? Sì. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Condividetelo. Aspetta. Adesso facciamo la... Quando vuole venire qua con noi, non so... Perché vai e vieni, scusa? E poi... Che c'è? Questa quindi è la stanza, le nostre distanze, quella di stress. Questo è tutto il monte corone. Già. Ah, a proposito, aspettate un attimo. Spireteli cosa vogliamo... Che facciamo qui su Minecraft. Sì, giusto. Faccio un orso. E qui ci sono i nostri cavalli. Zekrom e... Reshiram. E i nostri due cavalli. Perdonami Reshiram. Cavallo. Sali. Io direi di concludere così. Uiii. Salutate nei commenti di Shhiram e Zekrom, mi raccomando. Già. E oggi è un video dedicato a Senza, perché è quella laggiù, appunto, la sua camera. Senza ti darò le coordinate. 256,79-402. Il mondo è Dragons. Naturalmente. Sono un po' difficile. Infatti. Sperate cosa dobbiamo fare in Minecraft. Che bello. Vede cosa dobbiamo costruire. In onore dell'Archeos, lasciate questi like. Vede cosa possiamo costruire qui nel nostro mondo e ci vediamo al prossimo video. E ciao... Aspetta. E ciao, Sens. Ciao.